Amici genovesi, amici di Liguria, vi aspetto sabato mattina alle 10 e mezza al Teatro della Gioventù per riprendervi casa vostra, per liberare una splendida città e una splendida regione da dieci anni di oppressione, malagestione della sinistra, da dieci anni di giunta burlando paita. Sarò lì per presentare Edoardo Rixi, la sua squadra e la lista della Lega per riprendere la regione Liguria che sta perdendo tutto, sta perdendo troppo, le crisi aziendali, fincantieri, costa, ansaldo, la floricoltura, l'agricoltura e la pesca in estrema difficoltà, una ferrovia a binario unico verso la Francia, un aeroporto da barzelletta, una situazione di insicurezza e immigrazione clandestina crescente non solo nelle grandi città ma anche nelle colline. si può fare di più, si può avere una Liguria che torna a competere e a guardare al nord e non a guardare al nord Africa come qualcuno vorrebbe. Sabato mattina, ore 10.30, Teatro della Gioventù a Genova, vi aspetto.